Buongiorno a tutti, miei cari amici, dal vostro carissimo amico Giacomo Introna. Oggi, 17 gennaio 2023, buongiorno a tutti, miei cari amici. Iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna, condividete il video se vi è piaciuto e mettete un like. Iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna. Buongiorno a tutti, dal vostro carissimo amico Giacomo Introna. Iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna. Iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna. Iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna. Buongiorno a tutti, miei cari amici e miei cari amiche. Qui oggi è a Bari, è nuvoloso, non è molto freddo, non fa molto freddo e non tira vento. Comunque, il cielo è coperto. Un bacio e un abbraccio a tutti. Buona giornata a tutti.